Il sovrappeso e l'obesità, spesso associati a un'immagine negativa, vanno oltre la semplice preoccupazione estetica. Queste condizioni, caratterizzate da un indice di massa corporea, IMC, superiore a 25 e 30 rispettivamente, costituiscono gravi rischi per la salute. Sono collegati a una serie di patologie, fra cui malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete di tipo 2, sindrome metabolica e vari tipi di cancro. L'aumento dell'obesità, una tendenza preoccupante, aumenta anche il rischio di problemi alla colecisti e disturbi muscoloscheletrici, come l'artrosi, portando a un aumento della mortalità. Ma se guardiamo al passato, notiamo un'interpretazione diversa di questi problemi. Le società antiche, caratterizzate da uno stile di vita fisicamente impegnativo, facevano affidamento su risorse limitate di cibo, affrontando spesso condizioni ambientali avverse. In risposta a questa sfida, il corpo umano ha sviluppato la capacità di accumulare grasso come riserva energetica, un adattamento prezioso in tempi di carestia che poteva fare la differenza fra la sopravvivenza e la morte. Ciò che è meno noto è che questo deposito di grasso non serviva solo come riserva energetica, ma poteva anche essere impiegato per scopi terapeutici e curativi. Per comprendere appieno la percezione del peso corporeo nella società antica, è essenziale esaminare come venivano considerati il sovrappeso e l'obesità. Questa comprensione emerge dalle fonti scritte e dalle rappresentazioni iconografiche. Fra lì etruschi, una società nota per la sua inclinazione verso il piacere, il sovrappeso sembra essere stato comune, tanto da diventare un cliché. Epiteti come Obesus Etruscus, obeso etrusco, di Catullo e Pinguis Tirrenus, Pinguetirreno di Virgilio, indicano chiaramente la presenza di individui sovrappeso. Quest'ultimo epiteto fa riferimento a Tirreno, figlio di Eracle secondo il mito greco, che si stabilì in Italia, presumibilmente dando origine agli etruschi. Le testimonianze visive, come i sarcofagi, ritraggono persone in evidente sovrappeso, spesso rappresentate mentre banchettano. Un esempio notevole è il sarcofago dell'obeso, conservato nel Museo archeologico nazionale di Firenze, risalente alla prima metà del III secolo a.C. Questi individui, presumibilmente facenti parte dell'aristocrazia, godevano dei frutti dell'opulenza naturale dell'Etruria, una regione ricca di risorse descritta da Diodoro Siculo come capace di garantire una vita di piaceri e lusso. Essere in sovrappeso era considerato uno status symbol per gli etruschi, simbolo di ricchezza e benessere che consentiva di godere di pasti abbondanti e opulenti. Ma per i romani, inclini a uno stile di vita più marziale, e per i greci, la grassezza, specialmente negli uomini, era disprezzata, poiché indicava una mancanza di rigore morale e rischiava di compromettere l'ideale di proporzione fisica, fondamentale per la salute e il benessere, secondo la concezione di Ippocrate e Galeno. Riprendendo le parole di Ippocrate, che considerava la corpulenza non solo come una malattia in sé, ma anche come il segno predittivo di altri disturbi, la presenza di grasso corporeo divenne gradualmente sinonimo di indolenza e goffaggine. Questa associazione è stata efficacemente rappresentata in numerose vignette satiriche a partire dal Settecento, in cui il grasso è stato spesso collegato all'arroganza e alla mancanza di acutezza del potere. Oltre alle sue implicazioni negative, l'adipe era anche considerato una risorsa preziosa per un'altra ragione, più macabra. Trasformato in un guento, si credeva potesse curare una serie di disturbi e malattie, fra cui reumatismi, dolori articolari, sciatica, distorsioni, mal di denti e gotta. Il suo impiego migliore era nel trattamento delle ferite, poiché si pensava che favorisse la guarigione dei tessuti e la loro vascularizzazione. La Xungia hominis, il termine utilizzato nelle farmacopee del Cinquecento, e del Seicento, per indicare il grasso corporeo, veniva ottenuto in diversi modi. Secondo il celebre anatomista fiammingo Andrea Vesaglio, nel suo De Humani Corporis Fabrica, una pratica consisteva nella raccolta del grasso dopo il processo di bollitura dei cadaveri, utilizzato per scopi di studio anatomico. Un metodo più inquietante coinvolgeva l'estrazione del grasso dai cadaveri dei condannati a morte delle classi sociali più basse, con i boia stessi responsabili del prelievo e della vendita del tessuto adiposo, spesso ottenendo considerevoli guadagni. Nella Germania del Seicento, l'estrazione dell'adipe dai cadaveri era un'attività autorizzata direttamente dalle autorità municipali. Questa pratica continuò finché i collegi dei medici iniziarono a opporvisi, poiché, essendo ormai abituati a dissezionare i cadaveri per fini scientifici, potevano soddisfare autonomamente la crescente domanda dei farmacisti. È così che nel 1747, Johann Georg Trenkel, boia di Monaco di Baviera, si vide improvvisamente negare il rinnovo della concessione municipale, poiché l'estrazione dell'adipe era diventata un monopolio dei chirurghi. Esisteva, tuttavia, un terzo metodo ancora più inquietante, l'ottenimento del grasso direttamente dai cadaveri dei soldati caduti in battaglia. Ad esempio, durante il lungo assedio di Ostenda, nei Paesi Bassi, i medici e i chirurghi si unirono ai cercatori di tesori nel saccheggiare i corpi dei combattenti per procurarsi il tessuto adiposo, armati di coltelli e secchi. Questo grasso veniva utilizzato per curare le ferite dei soldati, come prescritto dalle pratiche farmaceutiche dell'epoca, ma presto la pratica si diffuse in tutta Europa. Il grasso così ottenuto, trattato con erbe aromatiche e spezie, veniva venduto ai farmacisti, alimentando un redditizio commercio che persino la rivoluzione francese non riuscì a fermare. Durante questo periodo emerse un nuovo prodotto miracoloso, il gras de guillotine, ottenuto dai cadaveri di coloro che avevano appena perso la testa sotto la ghigliottina. Questo si aggiunse al già noto gras de pendu, ottenuto dalle impiccagioni. L'utilizzo terapeutico del tessuto adiposo è perdurato fino a tempi relativamente recenti. Nel 1909 è stato introdotto in campo chirurgico un preparato liquido a base di grasso umano chiamato Humanol, utilizzato per il trattamento di cicatrici e ferite. Il farmaco poi è stato ritirato negli anni 20 a causa della sua inefficacia e del rischio di sindrome da embolia lipidica, una condizione grave che può mettere a repentaglio la vita, specialmente in seguito a traumi con fratture ossee, soprattutto a livello pelvico e degli arti inferiori. Il grasso umano non era l'unico rimedio presunto contro varie malattie. Le farmacopee antiche e moderne raccomandavano l'uso di grasso prelevato da diversi animali, fra cui l'orso, axungia ursi, la vipera, axungia viperarum, il gatto, axungia cati silvelestris e il castoro, axungia castoris. È importante notare che il grasso di castoro non va confuso con il castoreo, una sostanza oleosa giallognola prodotta dalle ghiandole perianali dell'animale. Il castoreo, oggi utilizzato nei profumi, era una volta considerato efficace contro mal di testa, isteria ed epilessia. Verso la fine del XIX secolo si aggiunse al catalogo dei grassi animali con presunta efficacia terapeutica quello di balena, grazie a una scoperta che sembrava del tutto casuale. Nel 1896 un articolo apparso sul New York Times raccontava di un signore afflitto da reumatismi che, passeggiando sulla spiaggia di Eden, nella baia di Twofold in Australia, si imbatté nella carcassa di una balena. Decise, non curante del disgusto dei suoi amici, di entrare nella carcassa e una volta uscito, si accorse che i dolori reumatici che lo affliggevano da anni erano scomparsi. La notizia di questa miracolosa guarigione si diffuse rapidamente ed Eden divenne una meta ambita per pazienti facoltosi disposti a entrare nelle carcasse di balena per ore, nella speranza di liberarsi dalla malattia. Questi pazienti, suggestionati al punto da giurare di essere guariti, probabilmente provavano un senso di sollievo dovuto al calore e ai gas prodotti dalla decomposizione, che insieme creavano un effetto simile a una sauna destinato però a esaurirsi presto. Gli studiosi, fra cui l'antropologo australiano R. Acha Matthews, accorsi sul posto per studiare il fenomeno, scoprirono che gli aborigeni praticavano da tempo simili rituali, aprendo varchi nelle carcasse delle balene e immergendosi nelle viscere per ricoprirsi di grasso e alleviare dolori reumatici e muscolari. Questa pratica tradizionale, attestata anche dalle incisioni rupestri, presentava tuttavia un inconveniente notevole. I pazienti emanavano un terribile odore che persisteva per giorni, rendendo di fatto la terapia poco praticabile. Le immersioni nel grasso di balena scomparvero dopo la Grande Guerra, insieme ad altre improbabili applicazioni di tessuti adiposi, cadendo fortunatamente nell'oblio per mancanza di validità scientifica e utilità.